Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per gli under 15 del Castelvetrano Selinunte, sconfitti nella prima di ritorno in casa dell'Accademy Palermo. Non ha fatto meglio il Ciaculli, battuto a domicilio 2-0 dalla capolista Calcio Sicilia. 23 i punti e quinto posto in classifica per i ragazzi guidati da Stefano Pizzitola in piena bagarra playoff, al cospetto di un Ciaculli che versa nella parte alta della zona playoff, classifica molto corta, gare aperte ad ogni risultato come ormai abitudine nelle gare del campionato Elite. Dallo stallone castro di Campobello di Mazzara grazie all'ausilio e l'immagine a cura di Mario Carpinteri possiamo passare a raccontarvi del film di questa sfida che si apre dopo 4 giri di lancette con la prima occasione di marca ospite, cross dalla destra messo dentro per Bonanno che calcia mandando sull'esterno della rete ancora Ciaculli due minuti più tardi con la palla in profondità per Bonanno che salta due avversari ma viene chiuso da 6 dita sul più bello al decimo sempre con pagine palermitana la più pericolosa imbucata di Mantegna per uno scatenato Bonanno che si accentra e calcia trovando la rispinta di 6 dita sulla quale si avventa Baiamonte che scheggia solamente a trasversale. Castelvedrano che si affaccia in avanti poco dopo il quarto d'ora con Fosca in azione personale salta un avversario, apre per un compagno, mette dentro per Parisi che calcia malamente sul fondo termina così la prima frazione di gioco sul parziale ad occhiali passiamo con le nostre immagini al film della ripresa campanile di Parisi recuperato da Foscari che viene abbattuto da Peri l'arbitro lascia proseguire tra le proteste dei locali 4 minuti più tardi lancio in profondità di Interisano per Martinico che controlla la sfera, entra in area Martinico con lo diagonale per il vantaggio della compagine Castelvetranese 1 a 0 allo stallone Castro dentro Friscia per Martin minuto 58 proprio il neentrato, scappa sulla destra, mette dentro la sfera allontanato dalla difesa sulla quale si avventa Foscari che calcia colpendo solo il legno esterno dentro anche Di Maio proprio per Foscari un minuto più tardi uno scatenato Friscia in azione personale entra in area di rigore e si lascia cadere anche in questa occasione l'arbitro lascia proseguire sempre tra le proteste la compagine Castelvetranese 3 minuti più tardi però arriva il raddoppio la compagine di Mister Pizzitola con l'imbucata di Interisano per Friscia copia in colla del gol di Martinico e 2 a 0 per il Castelvetrano 6 minuti pesca, gol dalla panchina Mister Pizzitola getta nella mischia anche giarraputo e sacco per Martinico e 6 dita un minuto più tardi, gran palla in profondità Di Norrita ancora per Friscia sempre col diagonale sempre dalla stessa zolla Tris del Castelvetrano Serinut che nel finale manda in campo anche Caradonna per Milici, chiude in avanti il Ciaculli che cerca la rete della bandiera palla per Giorgiano che vince un contrasto però un tocco sotto che scheggia solamente la traversa, non c'è più tempo allo stallone Castro il campo bello di Mazzara il Castelvetrano Serinut e si impone per 3 a 0 sul Ciaculli a prima domanda e poi la doppietta di Friscia un saluto amici appassionati appuntamento alla prossima